Una bella giornata oggi eh! Variante Montepenna, area archeologica di Stangezia. Vallone Moretto. Adesso vi faccio vedere la restante parte di Lugo. Questa invece, questo è il distributore in disuso. Da là, soprattutto un altro passeggio con la bici. Ecco qua. Il mio meraviglioso paese, Lugo de Marchi. Ai piedi delle montagne. Un polmone verde, Lugo de Marchi, vedete? Non ci sono fabbricati ammassati. Sopra c'è la parte storica. Guarda com'è bello di qua. E' bello passeggiare, guarda sempre in bici. Grazie. Grazie.